Attenzione Se siete facilmente impressionabili Non guardate questo video Perché potreste facilmente impressionarvi Una delle cose più orrende Vabbè praticamente Volevamo fare una cosa figa tipo televisione Comunque non guardate questo video Cioè potete guardare il video Ma non guardate i video che noi guarderemo in questo video Che non ci saranno nel video Però non andate a guardarli Fanno schifo veramente Quindi non li guardate Noi vi abbiamo avvertito Poi non rompete il cazzo Basta che guardate le mie reactions Ecco Guardate prima il video E poi decidete se guardare o meno Bella vecchi trapani Oggi siamo con il video 2 Girls 1 Cup Reazioni a 2 Girls 1 Cup E anche altri video che ci avete consigliato Sotto al video dei FAQ Perché ovviamente abbiamo detto Che se ci raggiungevamo Con un tot e mi piace Facciamo questo video Lui sta messo veramente male Noi mangeremo questi Mentre vi guarderemo 2 Girls 1 Cup No la cioccolata era troppo Per serio Voi ovviamente non vedete il video Perché non ci vogliamo far chiudere il canale Però se non l'avete mai visto Non lo fate Siamo pronti alle reaction Ovviamente sentirei soltanto Tipo la musichetta sottofondo Vabbè comincia come un normale No 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 Tipo No da una carattana No aspetta Aspetta Questo è già sta vomitando No perché mo' mentre mangiavo Ti penso dalla stena Senza mangiare No dai No ti giuro no Cioè non gliela faccio Porca puttana Lei fa quel frame per favore Dai E devo finirlo Un minuto dura Vai No No自己 No 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 Lo Ce la fai Continuo Cacola che è finto Piersoni che è finita È gelata da nocciola Continuo Dai è ancora arrivato il pezzo peggiore Ah perché io mi sono fermato Mamma mia Cazzo di vidi Cazzo di vidi Cioè stai Possiamo continuare Sì con questo pezzo Se non lo racconto Mi viene da comitare Dai è che è quasi finito giuro Io non ho mangiato a pranzo È arrivato il pezzo dove lei vomita calcolate Per chi l'ha visto Dai è quasi finito Stavo a metà video Mancano 15 secondi No 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 sta cosa no Finito Oddio Il primo è andato Ok Scampato eh Adesso mi piace hanno consigliato Two men one fish No no dai che cazzo Ma non si può vedere Ma che è Ma che è Vabbè questo non fa schifo Questo fa ridere dai Ma no Ma fa schifo Rattali È un pesce che ti fa un pompino Poi com'era Two men one horse No dai no dai Ma dai titoli cazzo Lo vuoi capire Che sono brutti i video No No Ma che cazzo Ma questo è scemo Ma che cazzo Mamma mia Ma che schifo No 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 rega Questo è morto Cioè One guy one skewediver Non so cosa sia No 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 Porca puttana Ma che cazzo Oddio Oddio No 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 Leva 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 No leva È arrivato Si No 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 firmate Era così impressionabile sei Non te ci facevo così Andiamo avanti No basta cioè Per favore Dai finivo questo Quale No 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 sul serio no Non ce la faccio Ce la posso No ce la posso No È seria la cosa Sul serio Porca puttana Ma questo è scemo È un pezzo duro No guarda come gli zampilli al sangue No no da Che cazzo dici no Ma questo è matto Adesso vuoi guardare No no Evveramente No non voglio guardare Sta a spezzare col datto Non hai visto cazzo De musica Oddio guarda la vasca piena No dai Non sto immaginando È finito È finito veramente Non lo so va bene Arrivato tutto Si Fidati Non c'è niente Tra tu che il suo encanto No 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 Zitto Tu me le guardi No no me le ricordavo Per favore Tu me le guardi Penso che sia meglio E' molto malato Tu me le guardi Comunque Facciamo tipo la classifica Di quelli più schifosi Allora ovviamente Per voi quelli che siete maggiorenni No 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 Non consigliarlo Cioè No non so Ma per voi che siete maggiorenni E quindi l'avete potuto vedere Fate la classifica qua sotto Per quelli che non sono maggiorenni Non guardate questi video Perché veramente Vi impressionate Quindi veramente Vediamo come consiglio Di non guardarli Guardate soprattutto Di una serie di action Che appunto Cioè abbiamo 20 anni E fanno capire Cosa è Ma non lo fate a caso Questo è il caso di dirlo Don't try this at home Che bello Ho sempre voluto dirlo In un video E niente Noi ci becchiamo Al prossimo video No no Mai più ste cose Mai più ste cose No Ovviamente ragazzi Veramente non li guardate Se non siete maggiorenni E niente dai Bella Ciao